Ciao ragazzi, siamo qui con Timber and Stock Allora, stiamo raccogliendo molta legna Per fare la nostra prima casa Che è uno schifo, sì E si è bloccato, ok Caspita il crampitile si è addormentato C'è del cibo. Oh, tu hai fame? Mangialo. Mangia il cibo o muori. Vabbè, tanto sono problemi tuoi. Perché ogni tanto si blocca tutto? Vabbè, sei stupido. Prima e poi mangerà. Va vedere te invece che punto sei. Sì, lui mangia. Sennò sarebbe già morto quest'ora. Bisogna però fare una scala. Perché altrimenti non riescono ad andare più. Non riesce a salire e a costruire su. Ecco. Tu devi lavorare. Tu pure. Di chi lo ne abbiamo. Quindi devi diventare un chopper a livello 7. Vediamo poi. Questi ne abbiamo... Zero? Ah, qui dobbiamo fare quelli lì. Questi 8. Questi 4. Va bene. Dovevo fare qualcuno di questi. Oh, che ti avete? Ok. Ok. Non è che però prima o poi finiscono gli alberi. Beh, tanto so bene, se vi. Ok, ce ne sono. Ma costruisce seriamente a caso. Completamente a caso. E tu smettila di dormire. Devi lavorare. Ecco. Pure te. Soprattutto te. Vediamo gli altri tizi dove sono. Mi sembra che non ci abbiano problemi. Tipo mostri. Soprattutto. Si fa ventosi. Però se non l'ho lasciati a letto. Vabbè. Allora. Sto cliccando molto... Una cosa. Non sembra funzionare. Ah, ecco appunto. Ok, come vedete adesso possiamo osservare all'interno della casa per decidere cosa metterci. Dovremmo rimetterci le cose che abbiamo qui. Ovvero. Un barrel. Forniture. Dov'è forniture? Ah no, storage. Mini stockpile. Poi. Food barrel. Qui. Poi. Una tool chest. Che se sto coso si levasse sapere dove mettere. Cioè lì. Ok. Un wood pile qui. E... Direi che per ora va bene. E quindi quando posso non si mette a costruire queste cose qui. Ecco. E diciamo di costruire... Di togliere questi. Vediamo un pochino se... Cosa abbiamo di oggetti. Copper ore. Possiamo cuocerlo in qualche modo? Diciamo di farne due. Anzi diciamo di farne dieci. Eh no, non li fa. Perché? Perché non c'è la fornace attiva. Perché non si leva sta roba? Ok. Ok. Dobbiamo dirgli di smettere per ora di fare questo. Perché se no non fa la fornace. Che è la cosa che deve fare. Eh, svegliati. No. Dov'è? Tu. Devi fare la fornace. No, non mi sa che non è... No, non è. Oh, c'è qualcuno che sta uccidendo qualcosa. Bravo. Ha ucciso due lupi. Comunque. Dov'è? Che spiaggia è finita la tizia? Crappettiere? Ecco qua. Appunto, ha costruito pure quello. Non serve un for... No, non un forager. No, no, no. Un stone manson per fare quello. Ecco. E quello lì. Bravo. E mi sa che quello lì invece lo fanno i minatori. Builder. No, dov'è? Carpentiere. Dov'è finita? Si è messa a dormire. Allora vuol dire che... Devono fare i minatori, quello. Tu diventa... No, lascia perdere. Tu sei un woodchopper di livello 7. Tu. Tu. Ok. Diventa un minatore. E vai a costruire qualcosa... Ecco. Bravissimi. Bravissimi. Adesso che abbiamo costruito quello, tu dovresti fare... No, non un forager. Un... Sto manso. Dovresti fare il copper. Ecco. Mi sa che lo fa? E il bronzo. No, non il bronzo. Il copper. Non c'è il copper? Ah, ecco. E' questo che io ci dicevo di fare. Su, 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 su. Ecco. E questo si rinuove. No, mi sa che non... Che è sempre e comunque... Il... Il carpintiere che lo deve fare. Quella roba lì. No, non sei te. E' questa. Che sto qui ho? Carpentiere. Oppure lo stommanzo. Non ci capisco un cavolo. Eh, ci manca pure il cibo ora. Riusciremo mai a sopravvivere? Scopritelo nel prossimo episodio. Ciao. Al prossimo episodio.